e a tutti sono di grubius e bentore di questo nuovissimo gioco si chiama com class iconoclast è un gioco molto carino che ho iniziato da non lo so quanto o ieri avevo scaricato però non aveva per farlo quindi oggi vorrei portarci un bellissimo video ovviamente c'è anche papà qua e ovviamente voi non lo sentite però e adesso andiamo subito avanti per quello che abbiamo fatto prima adesso uccidiamo questi bei mostri allora quasi per tiraglielo oh ma tu cosa fai tu da sopra eh ragazzi se non ci vedete di questo nuovo gioco una sorta un bel mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e direi di iniziare ok andiamo qui sotto ragazzi come si fa tutta cosa papà come si fa salta e schiaccia vai 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 ragazzi perché non si gira ragazzi ok 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 grazie bene papino ce l'abbiamo fatta tutti noi ragazzi duecenti e facciamo un altro video papino mi ha detto che qua è un cuore gratis infatti però veramente un cuore gratis e andiamo di qui oh sei celno che qua è un cuore sarà il cuore gratis e un cuore gratis uno Cosa è questo? Qua c'è un bel coso che non so cosa serve Guarda cosa qua Mori, mori, mori Per questo Almeno noi ritorniamo dietro Oh, è a tempo Vai Andiamo raga Oh, oh Vai, 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 sì Ragazzi è difficile questo gioco Non così tanto però E aiaiaia Sei pazzo? E poi, vai, 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 è morto Andiamo Oh, un altro assi della morte Vai, 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 vai Ok Adesso non lo si passa Forse No Ehm 3D A Ho capito Andiamo a trovare un modo Per Cosa qua Oh Ecco la soluzione Così E andiamo di qua Questo gioco Questo gioco è un gioco di calma Giusto Abbastanza difficilotto Però alla fine ce l'abbiamo fatta Ok, è morto Dai, 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 dai Ok Ce l'abbiamo fatta No Bisogna fare una cosa abbastanza facile Bisogna chiamare questo col Qui Qui in alto Per fare una roba giù Adesso Adesso Come si fa ad uccidere queste cose Mori, 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 mori E la madonna Guarda sta cosa qua Un bufalo Ecco la chiave Uccidiamo questo col Ok Ragazzi Adesso come si Ragazzi 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 Come cavolo Si No Ok 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 Ma adesso Io non so come aprire questa casa Vabbè Ragazzi Non ho capito Commenti come si fa Cos'è Una volta Ci ritorniamo indietro E lo facciamo Per bene Adesso Apriamo questo Andiamo Qua sotto C'è qualcosa che è bloccato Ma E' Il posto di Ma Adesso Ragazzi Cosa ci abbiamo guadagnato Forse Forse Se andiamo qua Di A casa ci sarà qualcosa Forse ancora Quei brutti ladri Che c'erano Che c'erano Quando ero Scamera Senti voi Oh Ma quella E' una tomba Ah Non l'abbiamo Da letta Ritorniamo A casetta Nostra Cosa è cambiato Perché Mi hanno Me hanno fatto Ritornare qua Ah Possiamo dormire Buongiorno Salve Ma io Non so Cosa fare Per Perché Ho esplorato Tutta la parte Di prima Ma adesso Cosa Cosa Ragagnare Ma Ho capito Bisogna Finire Quella Cosa Clave Ecco Perché Non mi faccio Andare Avanti Oh Oh Che figata Come ho fatto Così Così Vai No Di qua Aspetta E' Difidilissimo Ok Ci provo Papà Non si può fare Da questo Se prende Proprio La rincorsa Ok Bravo Provo anche Io Adesso Dove Grazie Uh Bella Cassetta Abbiamo Trovato Il Diamantuzzo Ora Cosa Se ne facciamo La domanda Delle domande Adesso Cosa Abbiamo guadagnato Con questo Diamante Eh Guarda Di qua Ah Forse Ho capito Andato 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 E' La madonna Di qua Muori Dai Muori 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 Veramente Cent'anni Aiuto Sto Morendo Mille Anni Andato Di qui Di qui Ho capito Ho capito Una cosa Come Quelli Di Panna Ma Veramente Difficile Come Ciao Che Che cosa Cosa Faccio Papà Aiutami Ti prego dobbiamo fare così allora allora vogliamo prendere questo lato e vediamo se c'è qualcos'altro da fare molto difficile ragazzi questo gioco è vero? sembra semplice ma non lo è non lo è l'ha affatto allora dobbiamo passare dobbiamo vedere di qua se c'è qualcosa oh 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 no anche perchè i comandi sono un po' rossi non sono un po' più comodissimi no allora saliamo lo faccio saliamo qua andiamo di qui ok 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 adesso andiamo di qui andiamo di qui questo abbiamo già girato e andiamo di qua qui in fondo serve una chiave vogliamo andare giù come possiamo fare a finire almeno questo livello andiamo giù di qui andiamo giù di qui oh attenzione oh già è fatta dobbiamo girare questa chiave ok abbiamo spostato quella non va bene perchè si incastra ok 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 se dobbiamo spostare questo vediamo non capisco come si fa ok 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 no no non resta su vediamo se l'ho fatta ok ora andiamo di qui ok questo è tornato di qui ora possiamo salire ma dove hai fatto facciamo salire mi chiede come ho fatto io ho fatto a questi giochi in 2D oh attenzione adesso questo mostro qui maledetto mi aspetterà e posso scendere di qua tu puoi scendere devi scendere giù 2 lo sai la di di papà oh vengo di ciò posso scendere giù e x vediamo se posso scendere giù e x bravo ok ce l'ho fatta adesso vediamo un giro di salire in qualche modo così così tocchiamoci qui ci può toccare qui? no qui così così vediamo che fa Diego bravo Diego e adesso la strada dovrebbe essere libera il livello andiamo qui papà apriamo questo schiacciamo e il livello è finito eccomi di nuovo e possiamo salvare e ora possiamo anche salutare e chiudere il nostro video di questo bellissimo Gio vai Diego spero che questo video si sia adesso non mi piace scrivete qua nei commenti se vi vediamo più con serie e noi ti vediamo la prossima volta ciao ciao bravo ciao ciao